Io rappresento uno studio di ingegneria che si chiama Serving e progetta da molti anni impianti e strutture nel campo della produzione di farmaci e di alimentari. Gli ambienti e gli impianti che noi progettiamo hanno delle particolarità, delle peculiarità che sono prevalentemente legate e connesse alla pulizia degli ambienti e alla pulibilità degli ambienti. Potremmo definirla l'igiene ambientale o l'igiene dell'ambiente di lavoro. L'ambiente farmaceutico in particolare ha degli standard molto alti, molto elevati, dei quali io oggi spero di dare qualche accenno, di raccontare qualche cosa, facendo vedere anche qualche immagine. Questi standard a mio parere potrebbero essere esportati a livello tecnico-tecnologico ma anche a livello di conoscenza culturale anche in altri ambienti e altri settori che hanno requisiti di igiene ambientale. Quindi mi faccio riferimento in particolare a quello che noi frequentiamo normalmente, potrebbero essere ospedali, ristoranti, mense, servizi igienici pubblici o altre strutture dove noi vorremmo sicuramente vedere un ambiente pulito.